Musica Presso l'Aula Magna del Campus Universitario di Cesena è stato firmato un accordo di collaborazione tra Università di Bologna e Legacop Romagna allo scopo di sviluppare nuove start-up, nuove cooperazioni imprenditoriali per un futuro innovativo e giovane. Presidente Mazzotti, ci illustri questo accordo di collaborazione stipulato, firmato con l'Università di Bologna? È un accordo molto importante, di durata quinquennale, in sostanza mette a regime, a sistema, fissando dei paletti di carattere generale, anche entrando nello specifico, un rapporto di collaborazione tra la Lega delle Cooperative e soprattutto le associate romagnole, che sono oltre 400, e l'Università di Bologna. Noi siamo molto felici di questo tipo di intesa, fra l'altro è una collaborazione che è già nata da tempo, perché abbiamo fatto una piccola indagine prima di sottoscrivere questa intesa, abbiamo scoperto, non sopravamo neanche noi, che il 50% delle nostre cooperative già intrattengono dei rapporti con l'Università, quasi tutte ovviamente con l'Università di Bologna, in buona parte con i campus, i quattro campus romagnoli. Abbiamo chiesto anche alle nostre cooperative cosa ne pensassero di questa intesa, noi siamo stati molto incoraggiati ad andare avanti, al punto che, proprio un dato statistico pur parziale, il 91% delle nostre imprese ci ha detto e ci ha invitato a proseguire, e soprattutto ha dichiarato la propria disponibilità a sviluppare la collaborazione sui punti che sono indicati nell'accordo. Noi interessa molto, in particolare, il rapporto con l'Università per la formazione, l'alta formazione, di cui abbiamo bisogno, la sfida della competitività passa di lì, i processi di digitalizzazione e l'idea di sviluppo su cui cerchiamo di orientare le nostre cooperative, in particolare, tutte improntate sulla sostenibilità, quindi il rapporto sui temi ambientali, e poi siamo interessati anche su tutta la parte che riguarda l'organizzazione di imprese e soprattutto, direi, tra i primi punti che ci hanno spinto, l'impegno per la creazione di nuove imprese. Noi abbiamo costruito esperienze importanti in questi anni di start-up cooperative, dando vita a nuove imprese, abbiamo bisogno di fare nuove cooperative, e in questo senso abbiamo visto e trovato nell'interlocuzione con l'Università un punto di inteso molto importante che siamo sicuri che ci darà una mano inconsistente. Poi, insomma, noi abbiamo un'organizzazione romagnola, abbiamo una specificità territoriale molto forte, le cooperative sono le imprese più radicate nel territorio perché nascono e vivono del territorio e penso che anche per l'Università sia importante costruire questa relazione che è una relazione che poi valuteremo nel corso del tempo, se sarà in grado, come noi siamo sicuri che succederà, di dare un contributo al territorio e soprattutto alle nostre imprese cooperative. Per cui, Presidente, sostenibilità, nuove cooperazioni, l'impresa cooperativa è attenta, oltre che a questi punti, alle opportunità delle generazioni future? Certo, noi siamo nati come movimento cooperativo, come movimento e imprese intergenerazionali, la differenza tra l'impresa cooperativa e quella di capitale resta sempre quella che nell'impresa cooperativa è il lavoro che controlla il capitale, in quella capitalistica è il capitale che controlla il lavoro, quello che si fa deve essere a disposizione per le nuove generazioni che verranno e questo è un messaggio molto utile che per noi sta nei nostri valori e proviene da molto lontano e penso che in questo momento, in questa fase particolarmente delicata dell'economia mondiale italiana sia un messaggio utile e importante e, se mi permette, anche molto romagnolo. Le imprese cooperative stanno contribuendo, Presidente, a sostenere la ripartenza dell'economia nazionale? Noi abbiamo subito e stiamo subendo, come tutti gli altri tipologi di impresa, le crisi che è dovuta al lockdown in questi mesi, in questi giorni, anche le nostre cooperative nei settori in cui c'è crescita e questo rimbalzo positivo dell'economia stanno crescendo, noi abbiamo sempre dato un contributo, come si dice adesso, di resilienza perché prima di molare le facciamo tutte, le facciamo tutte perché per noi, prima di tutto, è il lavoro, noi siamo imprese di lavoro, prima di perdere un posto di lavoro ci impegniamo fino alla fine, magari in passato abbiamo anche fatto anche errori per provare di salvare posti di lavoro che erano magari in difficoltà, ma noi ci siamo impegnati su questo fronte, quindi un lavoro, difendere il lavoro, impegnarci per fare in modo che questo passaggio in cui l'Italia si trova in questo momento possa essere un passaggio positivo, abbiamo di fronte un'opportunità unica, straordinaria, che deve essere colta nella qualità dei progetti che si presentano per i fondi del Recovery Fund, ma anche nella capacità e nella qualità di poter costruire il nuovo, sulla sostenibilità, sull'innovazione, che sono poi un po' dei progetti che abbiamo indicato anche nell'accordo che oggi sottoscriviamo. Università di Bologna e sistema cooperativo, un connubio innovativo che funziona? Che funziona anche perché mette assieme i valori che stanno dietro una didattica diffusa in Romagna e di qualità come la nostra, con i valori della cooperazione che sono anche propedeutici c'è la capacità, la volontà di creare start-up che partono dall'università e mettono dei giovani cooperatori nelle condizioni di fare, di costruire, di concretizzare il loro sogno di impresa. Per cui la start-up può essere anche cooperativa? Assolutamente sì, ne presenteremo due che ci metteranno nelle condizioni di far vedere ai romagnoli come un rapporto che si è già stabilito, inutile negarlo, tra l'università e l'Igacop Romagna ci consenta oggi di avere già due prime start-up che sono partite, che sono sul mercato e che quindi, lo dicevo prima, mettono assieme ciò che i ragazzi hanno imparato nell'ambito del loro percorso universitario con un percorso fortemente valoreale come quello che li ha portati a creare non un'impresa generica ma piuttosto una cooperativa. Per cui quali le finalità perseguite da questo patto? Esattamente quelle di accompagnare il percorso didattico con un percorso di rapporto con il mondo dell'impresa che da un lato consenta alle imprese di crescere, per esempio attraverso ricerche che possono essere attuate nel rapporto di collaborazione con l'università e dall'altro lato di trasformare le ricerche e il percorso di carattere didattico in nuove imprese che abbiano la caratteristica di proporre innovazione soprattutto, ma innovazione in un ambito che non è quello meramente imprenditoriale ma è quello di un'impresa cooperativa, cioè di una cosa diversa, di un'impresa nella quale chi si mette assieme ha un obiettivo di impresa ma anche la certezza di dover gestire in maniera positiva rapporti e valori soprattutto di partecipazione che noi riteniamo molto importanti. Rettore, un'importante sinergia quella che intercorre tra Università di Bologna e Lega Coppa Romagna? Sì, oggi sanciamo questa sinergia con un accordo quadro al quale seguirà brevissimo perché è già pronto un accordo di tipo attuativo. si innesta in una collaborazione già molto proficua tra l'Ateneo e le cooperative ma diciamo contiamo che questo accordo ci dia un ulteriore slancio, è un accordo a tutto campo perché copre da temi tipo ricerca e innovazione, inserimento nel mondo del lavoro ma soprattutto promozioni di nuova imprenditorialità. Nuova imprenditorialità in forma cooperativa, noi l'abbiamo già sperimentato, penso che siamo gli unici in Italia, aver sperimentato questo e tutto ciò si innesta in un territorio, quello della Romagna che dall'avvio del mio mandato è quello che ha prodotto più innovazione lato studentesco, più start up nate dagli studenti, quindi è un territorio particolarmente fertile e quindi noi contiamo con questo accordo di dare un'ulteriore spinta verso l'innovazione e quindi ricadute positive sul territorio. La start up impresa giovane ed innovativa è appunto chiave della politica industriale territoriale e nazionale? Assolutamente sì, a me piace sempre dire che sono start up imprese giovani, per noi giovani significano studenti, studenti universitari che durante il loro percorso di studio o alla fine del loro percorso di studio si lanciano in una nuova impresa che porti innovazione, lavoro ed è questo estremamente importante, l'aspetto che io sottolineo più spesso è che le università sono fattori determinanti per lo sviluppo di un territorio ma l'elemento più importante che porta all'università non sono i ricercatori ma sono gli studenti, la vera innovazione cammina sulle gangbe degli studenti e da questo punto di vista le start up, le nuove imprese che nascono dai giovani, dai nostri studenti sono il fattore più prezioso, il frutto più bello che può generare l'università in sinergia con il territorio e nel caso particolare collega Coppa Romagna. Un accordo quadro assessore in grado di promuovere nuove opportunità di tipo economico ed occupazionale? Sì, questo tipo di accordi hanno sempre due facce, uno che riguarda il territorio, che può in sinergia con l'università individuare delle nuove linee di sviluppo appunto. L'altro che riguarda l'università che si apre e raccoglie dal territorio degli stimoli, degli indirizzi insieme, insomma è un percorso da fare in due quindi bisogna sempre vederlo un pochino da tutti e due i lati, secondo me da entrambi è estremamente positivo che si aprano questo tipo di opportunità. Grazie a tutti.